amici detectoristi buongiorno sono leonardo ciocca di detector shop italia oggi vorremmo presentarvi brevemente il regolamento del settimo garret contest che si terrà il 30 aprile 2023 sulla spiaggia libera del grattacielo di cesenatico la gara sarà aperta a chiunque compresi i bambini e sarà possibile partecipare con qualsiasi marca o modello di metal detector i partecipanti dovranno trovare il maggior numero di gettoni realizzati in diversi metalli che saranno sepolti a circa 10 15 centimetri di profondità la gara sarà suddivisa in quattro turni di qualificazione al mattino due semifinali nel primo pomeriggio e una finale a metà pomeriggio a tutti verrà consegnata una mini pala all black che dovrà essere utilizzata per scavare e recuperare i gettoni non saranno consentiti altri strumenti da scavo ma sarà possibile scavare con le mani durante la gara i partecipanti dovranno indossare la t-shirt detector shop il cappellino e la sacca consegnati a tutti gli iscritti per contenere i gettoni recuperati durante le quattro gare eliminatorie verranno seppelliti anche quattro oggettoni speciali della formula golden coins che permetteranno di vincere dei buoni acquisto di ben 150 euro da utilizzare su detector shop.it anche quest'anno ci sarà la formula lucky loser con la quale saranno sorteggiati 20 concorrenti che non hanno passato il turno di qualificazione per partecipare alle semifinali i bambini fino a 10 anni potranno entrare nel campo gara solo se accompagnati da un genitore che non potrà però dare alcun aiuto durante la ricerca o lo scavo durante le fasi di gara le nostre affascinanti detectorine saranno presenti sul campo per disturbare simpaticamente in caso di maltempo la gara si svolgerà comunque ma potrebbe essere comunque annullata o modificata in caso di condizioni meteo pericolose sabato dalle 16 e 30 alle 18 e 30 e domenica dalle 7 e 30 alle 8 e 45 verranno distribuiti ai partecipanti i numeri di gara e i gadget inclusi nell'apposita sacca che può essere ritirata solo dal partecipante iscritto di persona domenica 30 aprile alle 8 e 45 ci sarà la cerimonia di apertura con lo spettacolo delle nostre simpatiche detectorine è una bella foto di gruppo alle 9 inizieranno i turni di qualificazione con manche della durata di 25 minuti i migliori 25 di ogni turno avanzano alle semifinali che si terranno come ho detto nel primo pomeriggio in caso di pari merito si procederà con l'estrazione a sorte da svolgersi alla presenza dei concorrenti coinvolti alle 14 inizieranno le semifinali che avranno la durata di 30 minuti e alla fine i migliori 20 di ogni turno accederanno alla gara finale che avrà la stessa durata infine alle 16 e 30 ci sarà la cerimonia di premiazione durante la quale verranno anche estratti a sorte tantissimi gadget tra cui borse sacche attrezzi da scavo e altro ancora in più verrà sorteggiato tra tutti gli iscritti presenti un mitico garret axiom il metal detector pulse induction top di gamma dell'azienda texana del valore di circa 5000 euro i premi estratti però saranno consegnati solo ed esclusivamente ai concorrenti presenti se il partecipante estratto non sarà presente si procederà all'estrazione di un altro concorrente il regolamento completo che vi invito a leggere e il crono programma sono visionabili nel nostro sito www garret contest punto it ricordate settimo garret contest 30 aprile 2023 a cesenatico a se fate delle foto e dei video condivideteli nei vostri social e taggateci con garret contest 2023 vi aspettiamo sul campo di gara grazie a tutti